Noti qualcosa di diverso, Fede? Eh, sì, Steph! Noto tante cose diverse! Cos'hai combinato oggi? Spiegami! Ho pensato che poteva essere divertente e rendere il mondo di Minecraft come Lego! Ah! Sì, sì, sì! Cioè, mi sembrava una roba divertente! Infatti, è tutto più cubettoso del solito oggi, Steph! Hai visto che carina la terra? Molto carina! E guarda le foglie degli alberi! Sono le mie cose preferite, proprio in assoluto! Ah, sono bellissime! Sono l'emblema del Lego, secondo me! Ma scusa, non abbiamo neanche più i cuoricini! La fame è diversa! Cioè, abbiamo dei mattoncini Lego al posto dei cuori! Lo so! E il cibo non capisco bene che cos'è, tipo una cosa così! Cibo Lego, Fede! Chiamalo cibo Lego! In ogni caso, questo oggi sopravviveremo in un mondo di Lego, ma non è l'unica sorpresa a vedere tutto diverso! Oltre al fatto che vedrai cose incredibili, tra cui polli, maiali, mob, sono davvero fantastici in versione Lego! Esatto! Ma oltre a quello avremo anche degli oggettini davvero interessanti da provare, cara mia! Ti devo interrompere! L'acqua! È vero! Guarda come l'acqua! È bellissima! È bellissima! E ragazzi, come va? Io sono Ferini! E sono Stef, che si chiama Minecraft! Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft, dove oggi dovremo sopravvivere in un mondo di Minecraft, ma trasformato in un mondo Lego! Perché questo è quello che ha combinato oggi Stef! Sì, sì! Ed è una roba fantastica! Ti senti colpevole? Sono super soddisfatto! E quando vedrai il villaggio che c'è qui vicino, Fer, mi dirai Stef è fatto bene! Quindi, vieni con me! Vieni a vedere quanto è più bello rispetto a un villaggio normale di Minecraft e appunto dimmi Stef è fatto bene! Dovevi proprio trasformare tutto il mondo in Lego! È tutto molto più bello! Tu sei fantastico! Bla bla bla! Guarda che fantastico! Ok, puoi metterla? Oh! È figo, eh! Eh, vabbè! Questo, devo dire che è molto più bello! È molto più bello di quello normale! Lo so! Perché le case rendono molto, molto di più così! Vieni con me, vieni con me, vieni con me! Devi vederlo da più vicino! I villaggio credo che non siano diventati troppo Lego, no? Infatti sono rimasti abbastanza normali! Abbastanza normali! Però guarda ad esempio questo legno! Eh sì! Questo è bello, eh! Ma anche la stradina! Guarda la stradina, Stef! Quanto è diversa! Sì! La vedi? La stradina che collega tutte le case è diversissima! Questa è davvero molto diversa, ma anche il pozzo è davvero, davvero carino! Mi piace un sacco il villaggio fatto così! E poi, Stef, vieni! Dimmi! Guarda! Eh, ma il pollo non si nota molto! Il pollo non è troppo trasformato! Ma vedi che ha il bottoncino! Ti garantisco che è tra i più deludenti delle creature! Quindi gli altri sono più belli? Gli altri sono molto più belli! Se vedessi... Ah, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Ti so per dire, se vedessi i maiali... E ce ne sono? Sì! Guarda che strano sto bioma pure! Oh mio Dio, è tutto stranito! Li vedo già da qui! Guardali bene in faccia! Sono più buffi! Dimmi che non sono fantastici! Sono molto, molto più buffi e sono super carini! E poi vedi che hanno la schiena e la testa come se fosse un mattoncino Lego! Che carini che sono! Lo so, allora poi... Ma i maialini sono bellissimi! Ti volevo far vedere anche il deserto, dato che siamo qui vicini! E come puoi notare è davvero carino anche il deserto, secondo me! E la cosa più fantastica del deserto sono i cactus! Guardali! Ma fanno male, perché non gli vedo più le spine! Sì, Ferre! Provo! Un cactus rimane un cactus! Eh sì! Eh, beh, cioè, che domande sono! Però fa molto ridere fatto in questa versione! Adesso, Ferre! Io ti avevo detto, non solo vedrai un mondo completamente diverso! Ok, ma avremo anche degli oggetti da provare! Va bene! Quindi, prendi il tuo bellissimo inventario! Ok! Ok, dovresti avere... Anzi, non ce l'hai perché sei una brutta persona! Tieni, Ferre! Ok, che cos'è questo? Questo qua ti permette di ordinare degli oggetti! Quindi, fai tasto destro, puoi scegliere il starter pack, il color pack A, il color pack B, C, D, oppure il blend bag, che sarebbe una sorta di mystery box! Ok! Scegli un pochettino cosa ordinarti, ovviamente costano smeraldi, quindi non spendere troppi soldi, per favore! Allora, siccome mi piacciono sempre le cose a sorpresa, io voglio la blind bag! Considera che puoi prendere più di uno, io prendo lo starter pack più la blind bag! Ti consiglio di prendere entrambi, basta selezionare entrambi, fai place order, ok! Adesso, se vedi, hai speso degli smeraldi! Ora aspetta un po' di tempo! Ok, mentre noi ci andiamo ancora in giro, però... Mi dà un po' di carne, Steph! Grazie! Una! No, come una? Ho molta fame! Una, basta! Va bene, riempie il mio cibo Lego! Sì, lo riempie! Perfetto! Che brutta persona! E cioè, quindi tu mi stai dicendo che nel frattempo che noi andiamo in giro, arriverà qualcuno che ci porta al nostro ordine! Il postino! Quindi nostri mattoncini le... Il postino, Fere! Arriva al postino! Esiste il postino nel mondo di Minecraft? Sei sicuro che esista, Steph? Nel mondo Lego, sì! Nel mondo Lego, sì! Tu hai quel foglio! Quindi come su Amazon! Hai fatto un ordine! Hai speso dei soldi degli smeraldi! Ok! E fra poco arriveranno i tuoi oggetti, che tu non sai che cosa sono, ma ti garantisco che saranno fantastici! Mi sa tanto che il postino è arrivato, Fere! Eh sì! Vabbè no? Eh sì! Eh sì! Eh sì! Eh sì! Allora, qua c'è il mio ordine! Il tuo è un po' più avanti! Ah, eccolo! E' un po' nascosto! Perché me l'hai nascosto qua, un postino? Allora, se tu apri... Oh mio Dio! Sono piena di mattoncini Lego! Aspetta che mi devo prendere tutto, Steph! Perché adesso costruirò una fantastica casa! Allora, adesso... Allora, mi ha messo un po' tutti i colori, anche a te, perché mi... Sì! Abbiamo fatto lo stesso ordine, vero? Esatto, tutto uguale! Mi sono stra piena di colori! Esattamente, la sto controllando qua! Ah, Fere, ma ci sono gli altri due ordini! Infatti mi sembrava strano, erano troppe poche le cose! Ah, ah! Erano troppe poche! Ma ce le ha proprio nascoste, eh! Prendi i mattoncini, prendi i mattoncini! Ma non ci stanno nel mio inventario! Neanche nel mio, neanche nel mio, Fere! Allora, di punto gli smerandi che avevo, però... Tanto non ha cavi i piedi, non ti basterà lo stesso! Ascoltami! Dimmi! Ok, te li tieni qua e facciamo una gara di costruzione qui! Sì, ci sta! Tanto, guarda, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui! Rimaniamo qua vicini, qua dove sono io la facciamo, tanto dobbiamo fare due cose piccole! Ma fammi pensare! Perché i mattoncini sono piccolissimi! Eh sì! Allora, partiamo dal colore! Io decido di partire con il rosso! Ok, rosso ne ho davvero poco, però un po' la tristezza! C'è altro rosso qua, volevo anch'io qualcosa di... Controlla! Eccolo, sì, sì, sì! Allora, cosa costruisco? Cosa voglio costruire oggi? Vediamo un pochino! Cioè, guardate comunque che cosa fantastica! È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo! Allora! È fantastico! Allora, facciamo una creazione a testa totalmente a propria scelta! Ok, quindi... Ah, io penso fare una mini casetta, te lo dico già, sinceramente! Sì, perché la cosa più bella delle Lego, secondo me, è fare le casettine, quindi mi piace un botto e la faccio, la faccio! Ci sta, ci sta, ci sta, allora, vediamo... E tu stai prendendo lì lo spazio, io me la faccio un po' piccola! Beh, ma anche perché io la faccio molto piccola! Ah, ok, piccola piccola! Sì, sì, faccio la casa in miniatura, secondo me è più bellino! Anche perché altrimenti ti servono un botto di Lego, diventiamo poveri! Ok, e quando hai bisogno di cambiare la direzione di un blocco, devi premere R! Ok! Che sicuramente non lo sai perché non sei un'esperta Lego! Ah, ecco! Opla! Ok, guardate! Questa qua! Ma perché in certi punti non le posso posizionare? Fere! Un po' strano, un po' strano! Non sei brava? No, vorrei fare... Io credo che dovrò fare un altro ordine! Una specie di piattaforma, ma non mi esce! Perché i muri, secondo me, non mi bastano, però guardate quanto sta uscendo bene! Guardate qua! Forse sarà più un castello che una casa, secondo me la mia, però... La mia bug out, Stef! Sono rotti sti blocchi, eh! Fere, cosa vuol dire? Guarda, io cerco di metterlo qua, guarda! Lo si mette di lato da solo! Ma... Guarda! Aspetta, tu lo vorresti mettere... Qua, dritto, e lui va lì! Toglilo? È buggata la mia... Stef, continua a mettermi gli storti! Perché i miei sono rotti, scusami, eh! Perché sei tu rotta! No, sono rotti i miei! Sei tu completamente rotta! E io metto un blocco lungo! Allora... Metto un blocco lungo qua! Ignoratelo, ignoratelo! Ah, guarda! Me lo metto è storto, Stef! Ruffa, non posso fare la mia costruzione! Allora, la mia casetta sta andando bene! Adesso dovrò fare il tetto! E sono indeciso se farlo di un materiale diverso il tetto! Perché, sinceramente, non ho idea! Non è facile costruire in una cosa così miniatura! Poi, vabbè, Fede ha problemi suoi che sono altro! No, io davvero non riesco a mettere i blocchi! Non so che... Ascolta, mi sposto! Secondo me è questa zona che non mi piace! Questa sabbia non va bene! Allora... Vado via! Però, avendo costruito di così... Posso fare le finestre senza problemi! Aspetta, come si rompe un blocco, Lego? È come i blocchi normali, Stef! Ah, ok, bisogna tenere premuto, perfetto! E c'è la gravità nei blocchi Lego? Suppongo di sì! E quello può essere un problema, perché io non voglio la gravità! Vediamo! Ok, cosa vuoi? E io voglio poterlo mettere tipo così... Così... Questo è un problema! Proviamo con questi! Tipo, cosa succede se io metto uno di questo? Funziona? Sì! Sì, sì, sì! Io non posso costruire, Stef! Non vedremo la mia casa! Non so perché mi mette i blocchi storti! Non chiedermi perché... Ma niente! Non me la costruisce! Cioè, totalmente! Perché non me sei tu smirata! No, 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 no! Non me li mette! Inizia a mettermeli bene, poi dopo un po' sti bug me li mette dove vuole lui! Perché non è brava! Non è brava con il Lego! Vieni a vedere la mia casetta! È un capolavoro! Vuoi vedere? Perché vuoi essere andata? Qui su! Guarda! Sì, la vedo! Però voglio provare a fare la mia! No, ci riprovo! Ok! Mi hai fatto ingelosire adesso! Vediamo se riesco a migliorare la mia casetta! Volevo fare la casettina carina! Eh, ma è fatta troppo grande! Eh, ma poi volevo fare, hai capito, il tetto! Guarda, ci posso vivere dentro, secondo me! Se tu l'avessi chiudere, ci potevo vivere dentro! Può essere! Può essere! Comunque, ti volevo far vedere! Basta, mi sono stancata! Vieni a vedere qua! Vai! Ok! Casettina! E guarda l'albero! Perché l'albero è steso, Steph! Dovevi farlo dritto! E non lo fa fare! È un albero caduto? Sì! Ok! È caduto, però è caduto dritto! Appena tolto, sì! Capito? È bellino, no? Sì! Ti piace? Sì! Sicura? Sì! Cos'è il ciuffo? Sì! La sto facendo più bella! E poi guarda! Aspetta, vai, vai! Vediamo! Vediamo come mi... Questo è il cielo! Il cielo sopra la tua casa! Vedi? Vedi, sì! Un po' così messo a caso! Perché il cielo non è mai regolare! Questo è il cielo! Meno male che sei arrivata tu! A migliorarla! A renderla una bella costruzione! Meno male! Ascolta, vai! Ti porto in giro a vedere se troviamo anche la miniera con un po' di mob! Così ti faccio vedere anche quelli! E poi basta perché mi stacca costruire e tu non sei buona! E se non sei buona... Allora, con i Lego normali so bravissima! Però c'è da dire che qui su Minecraft è molto difficile piazzarli! Sai perché? Perché non abbiamo le dita! E' quella la difficoltà! Noi non abbiamo le dita! Tu fai schifo anche nella vita reale! No, non è vero! Io in una sfida di Lego nella vita reale ti sul classo! Ma sei zitto! Non è vero! Ma non c'è proprio dubbio! Non sai fare nulla! Ti batterei proprio a occhi chiusi! Che se mi bendano e devo costruire col naso... Io comunque faccio una costruzione migliore della tua! Non avresti speranza! Allora, lì dietro abbiamo una scatola di Lego! Mi vuoi sfidare, Steph? Va bene! Mi vuoi sfidare perché facciamo la sfida e ci rimani malissimo! Vedremo! Ma proprio che piangi, Steph! Ti faccio una costruzione, ti faccio la Torre Eiffel e ti faccio! Non sai neanche com'è fatta la Torre Eiffel! Guarda! Eh, vedremo! Dammi la cane! No, non ne ho più! Dai, ho fame! L'ho buttata! Steph, ho quattro... L'ho buttata! Non ce l'ho più neanche io! Anche io ho quattro cosciotti! Sto morendo di fame! Però abbiamo una buona notizia! Abbiamo incontrato qualcuno? Sì? Credo le mucche! Sono stradissime! Ok, aspetta, fammi arrivare! Aspetta, Fede! Credo che ci sia un bug con le mucche! Buongiorno! Non riesco più a correre, sono troppo stanca, Steph! Credo che siano regolari queste mucche, però sono strane! Puoi vedere? Guarda i creeper! Vieni qua! È bellino, vero? Questo è fatto davvero bene! È molto carino! Sembra davvero quello che trovi nel Lego! Sai il Lego originale di Minecraft? Sì! Quelli che compri nel negozio! Quelli, sembra quello! Guarda lo scheletro! Mi piace un sacco quello scheletro! Molto bello! È più bello di quello normale! Ovviamente lo metto in acqua per non farlo bruciare! Lo zombie! Lo zombie! È bellino anche lui! Ma sono più belli i mob, Steph! Lo so! Lo so! Scusa, ragno! È perché sono ingombranti i ragni! Il ragno non cambia molto, come ne aspettavo! No, il ragno rimane abbastanza uguale! Poi abbiamo lo slime che rimane abbastanza simile, ma è bellino anche lui! Sì, è bellino anche lui! Poi abbiamo il ghast, giusto perché volevo evocare un ghast per fare casino! No, vabbè! Lui mi sembra uguale! Zombie Pigment che è diversissimo! È un po' buca! No, è un po'... Sì! Lui è uscito male, Steph! Ha avuto qualche problema! Chiaramente è uscito molto male! Se ne va! È il cave spider così! I più fantastici sono senza dubbio il creeper e lo scheletro che sono fatti benissimo! Tutti e tre sono fatti benissimo, sono molto belli! Io preferisco però... È pre bello anche lo zombie! Scheletro è cosa, scheletro e creeper! Il preferito è in assoluto il creeper, perché è totalmente perfetto e troppo carino lui! Sembra un peluche! È troppo bellino! Ecco, sembra il peluche! Non quello fatto in Lego! Sembra proprio il peluche! È troppo bellino!